Buonasera Castel Termini, come va? Lo so bene? Spero vi stai divertendo. Io mi chiamo Cyrus, grazie, e questa sera sono qui per mostrarvi l'arte dell'impossibile. L'arte dell'escapologia, l'arte del sapesse evadere, liberale, capolessia, circostruzione fisica o ambientale. Pensate, scoperte l'inventata cento anni fa dal grande Erdi Udini. Erdi Udini, colui che era in grado di evadere, di fuggire da qualsiasi costruzione, nessuno riusciva ad imprigionarlo, riusciva a liberarsi da catene, manette, lucchietti, camicia di forza. Io questa sera voglio ripetere un suo esperimento e battere il suo record. Però per fare questo ho bisogno gentilmente della collaborazione di due persone del pubblico. Adesso le mie assistenti fermano e chiameranno due persone. Vi assicuro che non vi succederà nulla. Mi servono due testimoni perché si dice che il prestigiato e il pubblico non può stare a contatto con il mago se non si vede il trucco. Adesso le mie assistenti sceglieranno due persone del pubblico. Prego. Tranquilli che non vi succederà nulla. Vado a mostrarvi l'attrezzo che utilizzeremo. Che è questo. Pensate, questo attrezzo veniva usato nell'antichità, nei centri psichiatrici di massima sicurezza, per legare i posti della persona. Veniva usato questo perché, a differenza delle manette in acciaio, il paziente rischiava di fare male in caso strattano o quant'altro. Questo è fatto fondamentalmente con lo stesso materiale della cintura dei nostri pantoloni, il cuoio, che sono delle parti in acciaio. Moltesemente si può avere un gelato, un microfono. Va bene, parla qua. Tu ti chiami? Carmelo. Carmelo, sei D? Grazie. Funziona? Quindi tu ti chiami, hai detto? Carmelo. Sei D? Castel Termi. Tu ti chiami invece? D? D? Castel Termi. Facciamo un applauso dei volontari per cortesia. Allora, come spiegato, io verrò legato, ammanettato, con questa, vuoi controllare per cortesia se è truccato o privo di, per fare, tu sarai te di stimone, che questo è un attrezzo reale, privo di trucchi o inganni, è normale. Vuoi controllare anche tu per cortesia? Abbiamo delle chiavi ovviamente qui, che vorrei che tenessi tu, le chiavi le terrai tu. Apri, apri l'occhietto prima. Giro la chiave, perfetto. Tieni tu le chiavi. Tu tieni l'occhietto. Andremo a legare i miei colsi. Mettilo qua per adesso. Allora, funziona su un principio molto semplice di applicazione. Abbiamo una parte scorrevole, questa qui, che è vicina per cortesia, che è per la nostra mano sinistra, così. Vuoi tirare per cortesia la cinghia? Stringi forte, non avrai paura di farmi male male. Stringi, 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 tira. Ok. Lascia. Adesso, completa il giro. Completa. Così, no, ok. Stringi forte. Mi raccomando, non avrai paura di fare del male, vai. Così, così. Chiudi lì. Ok, benissimo. Metti l'occhietto per cortesia. Completa. Ok. Grazie. Completa il giro. Chiudi. A questo punto i miei colsi sono legati, il cuoio stringe. Le cronache narrano che nemmeno di lì, cento anni fa, riuscì di liberarsi da questo strumento di condizione. Allora, io questa sera non solo cerco di liberarmi da questo strumento, ma lo farò anche in tre secondi. Per cortesia, vuoi dover creare il giubbotto? Adesso dobbiamo sbagliare lì in diretta. Ok. Allora. No, no, tu, tu. Tienelo tu. Tienelo tu. Allora, una punta del giubbotto tiene la tua. Per cortesia, vuoi vedere? Hai le cave in mano? Mettile in tasca, tranquilla. Metti le cave in tasca. Ok. E tieni una punta tu. Così. Cerco di liberarmi così, ma che possono vedere. Che metti più basso così. Da questo strumento in tre secondi. Però per fare questo, ho bisogno di... Tu che mi farai da countdown, quindi 3, 2, 1. Quando tu farai 3, 2, 1, tu inizierai a contare 1, 2, 3. Ed io al 3 sarò libero. Ok. Tieni, tieni, tieni con l'altra mano. Tieni con l'altra mano così. Ok. Anche tu. Va bene. Sei pronta? Quindi quando io andrò qua sotto, così, tu farai 3, 2, 1. Ci siamo? Hai capito? Quindi, trovo qua sotto, fai 3, 2, 1 e io cerco di liberarmi. Ok? Vai. Cerco di liberarmi. No, no, no. Ok? Vai. 3, 2, 1. No, no, no. Però, no, no, no. Spera. Devi contare lentamente e ad alta voce, in modo che tutta la platea, anche da sopra, ti possano sentire. Ok? Vai. Vai, vai, vai. 3, 2, 1. 1, 2. No, no, no. Fermo, fermo, fermo. Allora, tieni, andando questo mettilo qui qua così, questo qui qua. E allora, cercherò... E allora, siamo pronti? Vai. 3, 2, 1. 1, 2, 3. No, no, no. Cioè, scusate, ora ti voglio fare una domanda. Cioè, non c'è riuscito, 100 anni fa Odini, vuoi che ci riesca io questa sera? Cioè, è un pochettino improbabile come cosa. Però, datemi un'altra possibilità. Ultima possibilità. Il pochio steri testo, se stiamo così per la prossima 5 minuti, vedremo un gioco di immagini che si chiama il change di colore delle mani, che diventano viola. Così. Vai. 3, 2, 1. Attenzione, però prima che inizi a affrontare potete avere... Cioè, potrebbe essere imprevisto di vedere la mano destra libera, la mano sinistra libera. In questo caso ti pieghe che è troppo tardi perché il mago è già libero. Grazie! Grazie anche la signorina! Grazie, vi ringrazio! Grazie!